Dramma della povertà a Teramo. Una famiglia composta da due genitori disoccupati e due figli di 5 e 7 anni. Tra qualche ora saranno sfrattati dalla loro abitazione Ater perché morosi. Sì, morosi perché ogni giorno devono scegliere se far mangiare i loro bambini o pagare l'affitto. Stefania Cipriani spiega con disperazione la situazione che sta vivendo. Dal 2012 stiamo senza reddito in famiglia, cioè nel senso che non riusciamo più a andare avanti. In pratica siamo andati pure all'Ater e abbiamo parlato con loro dicendo che in pratica volevamo fare il cambio, ma non siamo stati ascoltati. Purtroppo andando a lungo non si può perché ci sono anche due bambini, quindi o diamo da mangiare ai bimbi oppure pagavamo quello che dovevamo pagare. Quindi non sappiamo più che fare e dove andare. A sostegno della famiglia Teramana che sta per andare in strada con due bambini piccoli scende in campo Ludicom, Unione per la Difesa dei Consumatori, che chiede alle istituzioni di intervenire subito e lancia un appello per una raccolta fondi. Una coppia con due bambini piccoli e con gravi problemi anche, si è trovata a dover affrontare un canone di locazione di 400 Euro al mese che non può assolutamente pagare, di qui la creazione dell'amorosità. E anziché cercare una soluzione alternativa, una soluzione agevolativa, si è passati all'azione di sfratto. Vogliamo attivare da domani una sottoscrizione, un conto corrente per aiutare questa famiglia, perché mi hanno detto che pagando una parte dell'amorosità possono sperare ad ottenere la Casa Popolare. Per chiunque volesse sostenere questa famiglia in difficoltà potrà rivolgersi alla sede provinciale del Ludicom in via Franchi a Teramo.